In studio Veronica Puglisi. Buonasera e benvenuti a MTG. Apriamo questa edizione parlando del numero delle persone contagiate in Sicilia dai dati diramati dalla Regione all'Unità di Crisi Nazionale. Sono 2108 le persone positive, 27 in più rispetto a ieri. I numeri parlano di 284 persone guarite. Sono 2108 le persone positive in Sicilia, 27 in più rispetto a ieri. Sono i dati diramati dalla Regione all'Unità di Crisi Nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 42.405. Di questi sono risultati positivi 2.579, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.108 persone. 284 sono guarite e 187 decedute. Degli attuali 2.108 positivi, 573 pazienti sono ricoverati, di cui 48 in terapia intensiva, mentre 1.535 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento 129, nessun ricoverato, 2 guariti e 1 deceduto. Catani 7, 115, 14 ricoverati, 13 guariti, 10 deceduti. Catania 600 casi positivi, 121 ricoverati, 70 guariti, 65 deceduti. Enna 292, 174 persone ricoverate, 25 guarite, 24 decedute. Messina 370, 133 ricoverati, 48 guariti, 38 deceduti. Palermo 330, 71 ricoverati, 44 guariti, 25 deceduti. Ragusa 59 casi positivi, 5 ricoverati, 5 guariti e 5 deceduti. Siracusa 100 casi positivi, 49 ricoverati, 60 guariti, 14 deceduti. Trapani 113, 6 persone ricoverate, 17 guarite, 5 decedute. Andiamo adesso in provincia di Raguse. È stato stubbato ma resta in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Modica, il giovane gelese di 30 anni affetto da Covid-19. Rimane stabile la situazione al nosocomio modicano, dove attualmente sono ricoverate 4 persone in terapia intensiva e una in malattie infettive. Il trentenne di Gela, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Modica da diversi giorni, oggi è stato stubbato. È questa la bella notizia che arriva nel pomeriggio di oggi dall'ospedale Maggiore di Modica, da dove ieri era stato dimesso un 94enne di Scicli. Un'altra bella notizia che arrivava dal nosocomio sciclitano. Per il resto rimane tutto invariato. L'unico paziente che si trova in malattia infettiva al Maggiore è un netino di 40 anni. Presenta una soddisfacente ripresa. Si apprende infatti che il paziente sta davvero bene, ma ancora le dimissioni per cautela non sono state disposte. I pazienti hanno reagito alle cure, la cui terapia base ha visto la somministrazione di idrossiclorochina, un farmaco che viene somministrato anche per casi di malaria, la zitromicina, un antibiotico immunomodulante, un antivirale inibitore della proteasi, la lopinavir e la ritonavir, un farmaco che viene utilizzato per la cura dell'AIDS nello specifico, e ancora il farmaco tocilizumab, un antiartrite remautoide, e ancora l'eparina per bloccare le embolie, e per i casi più gravi anche il rendesivir. Alcuni esempi questi di farmaci utilizzati per le cure dei pazienti Covid-19 che hanno lasciato il maggiore e che adesso stanno bene nelle loro abitazioni. Quattro persone, come detto, si trovano in terapia intensiva, un settantenne e un ottantacinquenne di Ragusa, una ottantottenne di Rosolini e il trentenne di Gela, che ricordiamo oggi pomeriggio è stato stubato. Cinque i guariti acclarati e cinque i deceduti, tra questi un uomo di Rosolini che si è spento al maggiore di Modica a seguito di un crollo delle condizioni di salute improvviso nel reparto di malattie infettive nelle scorse settimane. Ci sono anche un target di cittadini dei quattro comuni zona rossa e un ampio settore di lavoratori, fra le categorie per le quali la regione siciliana ha previsto i test sierologici nell'ambito dello screening epidemiologico sul coronavirus. Prende il via lo screening epidemiologico sul covid-19 in Sicilia, rivolto alle categorie più a rischio, ma anche ad una fascia di cittadini che risiedono nei quattro comuni delle zone rosse. L'iniziativa avviata dal governo regionale, dopo l'ok del comitato tecnico-scientifico, serve per individuare quelle persone che potenzialmente possono rappresentare una fonte di contagio. Saranno due i tipi di test sierologici, ovvero qualitativi e quantitativi. Serviranno a rilevare gli anticorpi, ma sono complementari al tampone rinofaringeo che sarà effettuato sempre sui sintomatici, pauci sintomatici e per coloro che sono entrati in contatto con persone positive al virus, oltre a tutti i cittadini individuati dalle circolari del Ministero della Salute e dalle ordinanze del Presidente della Regione. Ma quali sono le categorie sulle quali sarà eseguito il test per la ricerca degli anticorpi? Il personale dei Covid Hospital, dei reparti dedicati alla cura del Covid e dell'emergenza sanitaria, compresi gli operatori della SEUS, ma anche sui dipendenti delle strutture di ricovero pubbliche e private non Covid, sul personale delle unità sanitarie di continuità assistenziale delle ASP impegnato nell'esecuzione dei test e ancora sui medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e sugli operatori dei presidi di continuità assistenziale, test quantitativi anche sui ricoverati e sul personale delle RSA, delle CTA, delle case di riposo, così come sui medici in servizio nelle carceri, sugli agenti della Polizia Penitenziaria e sui detenuti. I test rapidi qualitativi con card, invece, saranno eseguiti sulle forze dell'ordine, vigili del fuoco, forze armate, destinate a fronteggiare l'emergenza Covid e il personale che deve recarsi nelle isole minori per motivi di lavoro. Il test verrà esteso anche ad un target di cittadini residenti o domiciliati all'interno delle quattro zone rosse siciliane, a Gira, Salemi, Troina e Villa Frati, ma anche sui volontari impegnati nell'emergenza sanitaria e sul personale dell'amministrazione giudiziaria. In vista dell'allentamento delle misure restrittive, è stata prevista l'effettuazione del test qualitativo rapido anche sui dipendenti della grande distribuzione organizzata, dei negozi alimentari e di altri esercizi commerciali autorizzati all'apertura nel periodo di lockdown. Nella circolare, diramata dall'assessorato alla salute, alle aziende del SSR, alle strutture sanitarie private, accreditate agli ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri, ai nove prefetti dell'Anci Sicilia e al responsabile regionale dell'amministrazione penitenziaria, viene inoltre chiarito che le categorie di soggetti a rischio potranno essere ulteriormente integrate, tenuto conto dell'andamento epidemiologico. Inoltre, tutte le ASP istituiranno un presidio in ogni distretto per l'esecuzione del test e tutte le strutture dotate di proprio personale medico potranno ritirare i kit presso le ASP, eseguire i test e inviare i dati al Dipartimento di Prevenzione di Riferimento. Infine, anche i professionisti privati che operano nell'ambito sanitario potranno eseguire il test in autonomia a tutela dei propri pazienti. Confortanti sono le notizie che arrivano in merito ai tamponi in provincia di Ragusa. La direzione generale dell'ASP ha fatto richiesta ad altri laboratori analisi di poter processare tamponi provenienti dal territorio ragusano. Ogni giorno verranno processati, si apprende almeno 370 tamponi in più. Per la provincia di Ragusa arriva la possibilità di avere riscontro su ulteriori 370 tamponi in più al giorno grazie alla disponibilità mostrata da altri centri e laboratori analisi accreditati con la regione siciliana. Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, l'ASP 7, Angelo Aliquo, ha fatto richiesta nelle scorse ore a tutti i laboratori accreditati con la regione per le analisi sul Covid-19 per poter processare tamponi provenienti da Ragusa. I laboratori, in base alla disponibilità reale, hanno confermato le operazioni per un totale di 370 tamponi che saranno analizzati anche fuori provincia. Una capacità di produzione che arriva a circa 500 tamponi giornalieri perché ai 370 va aggiunto un centinaio di esiti che la provincia giornalmente riesce a garantire. Analisi a rilento, spesso, perché i reagenti mancano e l'attesa determina un rallentamento dell'intera catena di lavoro. Esami a cui, lo ricordiamo, vengono sottoposti anche, e lo chiarisce anche il direttore generale dell'ASP Aliquo, il personale medico, ovviamente in base all'esposizione. Il personale viene sottoposto a tampone, ma è anche vero che una ciclicità e dunque una ripetizione maggiore del test è destinata a chi entra in contatto e lavora negli ambienti destinati al Covid-19, sottolineano dall'azienda. Le analisi sui tamponi, lo ribadiamo, possono essere espletate solo in laboratori di microbiologia molecolare, laboratori dotati di specifici macchinari che consentono le analisi sull'RNA, a differenza di un qualunque altro laboratorio analisi. I tamponi, infatti, vanno a rilento proprio per questo motivo, proprio perché hanno bisogno di reagenti e laboratori speciali e non dell'ordinario, sottolineano dall'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, da cui arriva comunque la confortante notizia di 370 esiti garantiti giornalieri in più a partire dai prossimi giorni, grazie al supporto di altri laboratori. Da qualche giorno sono in funzione due attrezzature per il laboratorio analisi del Giovanni Paolo II, donate dall'azienda Dione di Scicli per un valore di 45 mila euro. Una boccata di ossigeno per il servizio riporta la nota dell'ASP perché con queste due nuove attrezzature che si aggiungono alla strumentazione già in dotazione nel laboratorio, si potranno processare molti più tamponi. Si tratta di due apparecchiature utili per la diagnostica molecolare per il Covid-19. Cinque barelle chirurgiche per l'adegenza dei malati da Covid-19 sono state donate all'ospedale maggiore di Modica dalla Siam, l'azienda di produzione dell'acqua Santa Maria che opera nel territorio modicano. In questa situazione critica per il sistema sanitario nazionale e territoriale, scrive l'azienda, si assiste alla saturazione dei reparti di terapia intensiva negli ospedali preposti alla cura dei malati di Covid-19. Il maggiore di Modica è l'ospedale di riferimento del territorio ebleo e ospita pazienti risultati positivi al virus provenienti anche da altre province limitrofe. Con questa donazione, scrive la Siam, intendiamo aumentare il numero di posti letto di terapia intensiva dando un aiuto concreto alla sanità locale in risposta alle richieste che provengono dalle strutture ospedaliere in prima linea nel contrasto di questa emergenza. E tre reparti all'Umberto I di Siracusa sono stati chiusi per sanificazione. Tutto il personale messo in quarantena, i medici e i sindacati chiedono chiarezza su qual'ospedale attrezzare al meglio per il trattamento dei malati da Covid-19. Da ieri e fino a data da destinarsi all'Umberto I di Siracusa sono chiusi tre reparti per la sanificazione da Covid-19 e tutto il personale posto in quarantena. Chiudono le uniti operative di medicina e geriatria, lo Stroke Unit, il centro d'urgenza ICTUS. Questa è la comunicazione arrivata ieri dalla sala operativa del 118 di Catania, ma a Siracusa la situazione di emergenza provocata dalla pandemia in corso si aggrava ulteriormente con il trasferimento dei reparti negli altri ospedali del comprensorio, causando confusione negli utenti e senso di insicurezza nei luoghi di lavoro del personale medico. È emerso dalla denuncia sinacatica che a un cittadino che era positivo al coronavirus e successivamente dimesso dall'Umberto I è stato chiesto, per ripetere il tampone, di tornare nel nosocomio contro la volontà dell'uomo, che chiaramente preoccupato non vuole uscire di casa, con retrati tentativi di convincere da parte del personale medico. Solo stamattina sono andati nell'abitazione dell'uomo a sottoporlo al tampone di verifica. Adesso però i malumori riguardano l'ospedale di Avola, dove da settimane è stata trasferita l'oncologia dall'Umberto I, dove era risultata positiva una paziente e tutto il personale sottoposto ai tamponi. I pazienti ricoverati in neurologia dall'Umberto I, fatto sapere il mezzo di Siracusa, Salvatore Lucio Ficar, saranno trasferiti da Augusta, dove già c'è il reparto. Le altre unità operative saranno destinate negli altri nosocomi dell'area. Lo scopo è sanificare tutto l'Umberto I, chiudendolo a step per mettere in sicurezza il nosocomio come promesso ai lavoratori, ha chiarito il direttore Ficarra. L'allarme era stato lanciato anche dal già parlamentare regionale Siracusano, Vincenzo Vinciullo, il quale ha però proposto la sanificazione degli ospedali di Noto, Avola e Siracusa ed individuale come Covid Hospital solo Noto ed eventualmente utilizzando parte della struttura ospedaliera di Pachino. La CISL siracusana ha denunciato in una nota i ritardi nella gestione del pronto soccorso di Avola, dove grigi e normale, cioè pazienti infettati e non, si ritrovano negli spazi uguali e lungo lo stesso ingresso e corridoio. Avola in questo momento, ribadito al sindacato, non può essere l'alternativa all'Umberto I per la situazione emersa. Ha ospicato l'individuazione di un unico ospedale pulito per tutelare anche le altre patologie e un confronto con le organizzazioni sindacali. È anche vero che l'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, nel piano del Covid Hospital, aveva indicato nel Siracusano un piano dell'Umberto I, non escludendo l'individuazione di altri eventuali siti. Nel frattempo ha messo a lavoro da poco più di dieci giorni all'Umberto I un Covid team per diversificare i percorsi interni al nosocomio e ha nominato un pool di esperti per accertare la gestione del caso clinico che ha portato alla morte di Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa. Una decisione assunta dall'assessore Razza per dare serenità agli operatori sanitari e ai cittadini. Verificare la presenza o meno di Covid-19 sulle superfici di strutture pubbliche o private attuando un monitoraggio costante quanto sta attuando un laboratorio microbiologico di Mazzarrino, unico centro privato in Sicilia che effettua questo tipo di esame. Test sulle superfici per verificare la presenza o meno del Covid-19 con un monitoraggio costante, tamponi effettuati all'interno dei locali, degli edifici pubblici o privati, delle strutture sanitarie e in vari ambienti lavorativi. Ad attuare questo tipo di esami è un laboratorio microbiologico di Mazzarrino, unico in Sicilia nella ricerca attraverso la tecnica della biologia molecolare e l'utilizzo di macchinari, quali il PCL real-time, del Covid-19 nelle superfici. Indagini che permettono di identificare la presenza o meno del coronavirus con l'uso di tamponi in alcuni casi imbevuti di una sostanza neutralizzante. Centinaia le strutture che hanno richiesto l'intervento con l'obiettivo di assicurare la salubrità degli ambienti e sicurezza ai lavoratori. Abbiamo visto che il 5%, per il 5-7% dei nostri tamponi purtroppo ha dato questo positivo, cioè quindi il Covid-19 l'abbiamo trovato in vari ambienti di lavoro, soprattutto negli ambienti ad alta frequenza di soggetti sintomatici, ma anche in soggetti asintomatici. Quindi è importante fare le verifiche ambientali. Per la verifica, chiamiamo, insomma, il Porti Istisan, l'Istituto Superiore di Sanità, che attraverso, insomma, delle tecniche, sia, diciamo, superficiale, sia delle tecniche, insomma, di monitoraggio nell'aria, quindi attraverso gli impattatori, riusciamo, attraverso anche, ecco, l'estrazione del RNA in nostro caso, perché il nostro coronavirus è RNA o DNA per altri virusi, attraverso l'estrazione, diciamo, del materiale genetico e attraverso la tipizzazione successivamente riusciamo anche a quantizzare il virus, i virus presenti, ecco, nei vari ambienti di lavoro. Questo dà maggiori garanzie al datore di lavoro e maggior sicurezza ai propri lavoratori. Sono 26 gli articoli della finanziaria regionale per attivare misure di contrasto agli effetti economici negativi del coronavirus in Sicilia. Adesso la manovra passa all'Ars per l'approvazione definitiva. Fondi per i comuni, per le fasce deboli, ancora per il sistema economico produttivo, oltre alla sospensione dei versamenti, sono i punti inseriti nella manovra 2020 della regione siciliana, che adesso passa all'Ars per essere approvata. Sono 26 gli articoli che la compongono, tutti mirati a contrastare gli effetti economici negativi causati dal coronavirus anche in Sicilia. Le risorse che saranno destinate provengono da una rimodulazione dei fondi extra-regionali, FIRST e FSE, e del POC 2014-2020. Ecco cosa prevede nei dettagli la manovra. Ai comuni andranno 200 milioni di euro per far fronte alle minori entrate a causa della sospensione o per i mancati versamenti da parte dei contribuenti. 120 milioni di euro sono invece destinati alle scuole per evitare un ulteriore incremento della dispersione scolastica e per garantire i livelli occupazionali dei lavoratori, oltre a favorire strategie per il potenziamento della scuola digitale. Ai 200 milioni di euro destinati ai comuni si aggiungeranno altri 100 milioni di euro che saranno destinati alle fasce deboli della popolazione per l'assistenza alimentare delle famiglie più bisognose e saranno anche concessi prestiti a parte a fondo perduto fino a 5 mila euro a interessi zero. Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, sono previsti due tipi di interventi sovvenzioni e finanziamenti per il credito d'esercizio che assicurino liquidità alle aziende. Anche per questo settore verrà creato presso l'IRFIS un fondo di 170 milioni di euro per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici. Verranno concessi prestiti in parte a fondo perduto fino a 15 mila euro a interessi zero. 10 milioni in particolare sono destinati a sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa anche online. Altri 100 milioni di euro serviranno a creare presso la Crias uno speciale fondo per la ripresa artigiani anche per loro prestiti fino a 15 mila euro senza interessi. Identica possibilità per le cooperative 50 milioni di euro a disposizione attraverso l'IRCAC per finanziamenti fino a 50 mila euro. Interventi anche per il settore del turismo e il comparto della pesca. Infine verranno sospese tutte le tasse di concessione governativa di competenza regionale ovvero i tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi i canoni per le concessioni dei maniali marittime e i ruoli istituzionali e irrigui dei consorsi di bonifica dell'ultimo triennio. Parliamo adesso di elezioni amministrative in Sicilia perché il presidente della regione siciliana nello Musumeci ha deciso di spostare ulteriormente la data il periodo in cui si andrà al voto è quello compreso tra l'11 ottobre e il 6 dicembre 2020. La decisione è stata paresa proprio per il prolungarsi dell'emergenza coronavirus. Slittano in autunno le elezioni amministrative in Sicilia che dovevano eleggere i consigli comunali e i sindaci di 61 comuni della regione. Il periodo di riferimento è tra l'11 ottobre e il 6 dicembre 2020. Elezioni che in un primo momento erano state fissate per il prossimo 24 maggio con turno di ballottaggio e 7 giugno. Di oggi una nota della regione siciliana che ha rinviato il tutto al prossimo autunno così come deciso dal presidente Nello Musumeci. La decisione del rinvio è stata presa allo scopo di contenere e contrastare rischi sanitari derivanti dalla diffusione del coronavirus in Sicilia. Sono in tutto 61 come detto i comuni chiamati alle urne tra questi anche quello di Ispica unico comune in provincia di Ragusa in cui si doveva andare al voto e i cui organi saranno prorogati. Le elezioni come detto programmate in un primo momento per il prossimo 24 maggio avevano già subito uno slittamento al 14 giugno con eventuale turno di ballottaggio al 28 giugno ma considerato il perdurare della fase emergenziale il presidente Musumeci ha deciso un ulteriore spostamento sul quale si dovrà ancora pronunciare l'assemblea regionale siciliana. La delibera della giunta che approva il disegno di legge proposto dall'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso è stata già pubblicata sul sito web della regione siciliana e inviata a Lars per l'avvio del relativo ITER parlamentare. 83 le persone che sono state sanzionate nel weekend pasquale dalla Guardia di Finanza molte le persone uscite da casa per futili motivi come ad esempio l'urgenza di andare in banco alla posta sanzionato per la seconda volta anche un runner che tranquillo correva a lungomare. In tanti durante il weekend pasquale hanno rispettato le regole altri invece hanno pensato di poter fare liberamente ciò che volevano non attenzionando divieti e disposizioni ministeriali e credendo di farla franca e invece grazie ai controlli capillari sul territorio messi in campo dalle varie forze dell'ordine tanti furbetti che sono stati scoperti. Le fiamme giallette ne hanno partecipato con oltre 400 uomini al servizio di controllo interforze coordinato alla questura di Catania. Le pattuglie dei finanzieri si sono soffermate nei principali snodi stradali della provincia per intercettare gli eventuali flussi di persone verso le località marinare o le zone dell'Etna insieme alle pattuglie anche gli elicotteri e dal mare le moto vedette. La maggior parte delle persone ha utilizzato futili o falsi motivi per giustificare il fatto che fossero fuori. Alcuni ad esempio hanno detto di dover effettuare operazioni urgenti in banco alla posta peccato però che era la domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Numerosi poi cittadini usciti dalle proprie abitazioni per prendere un po' di sole in scogliera o per fare una piacevole passeggiata lungo la costa così come sono stati sanzionati molti invitati alle grigliate organizzate presso amici e familiari. Singolare è la circostanza di un runner recidivo questo signore amante dello sport era già stato sanzionato ma nonostante ciò era di nuovo fuori e così i finanzieri per la seconda volta in pochi giorni lo hanno bloccato sul lungomare. Singolare è anche la vicenda che ha coinvolto tre romeni che sono stati trovati a bordo di una macchina sprovvista di assicurazione mentre facevano ritorno da una fruttuosa giornata di pesca presso la riserva Oasi del Simeto sequestrata l'autovettura e 20 kg di pesce donato poi in beneficenza dopo i rituali controlli sanitari mentre le tre persone sono state denunciate per pesca di frodo e danneggiamento di aria naturale protetta. L'informazione continua subito dopo la pubblicità. Consegnano medicina e cibo forniscono assistenza e sono sempre pronti a rispondere a qualsiasi esigenza della città sono gli impiegati e i volontari della protezione civile di Catania. Volontari ma anche impiegati con un grande cuore portano un pacco spese le medicine rispondono al telefono per aiutare chi ha una necessità urgente con il sorriso sempre stampato in faccia perché ora più che mai occorre sorridere quando si presta aiuto a chi ha bisogno e il gruppo della protezione civile di Catania da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus sia gli impiegati che i volontari sono scesi in campo alcuni dei volontari hanno altri lavori ma quando possono si regano presso il cocco il centro operativo comunale di Via Nobili pronti a mettersi a disposizione tolgono i vestiti di lavoro indossano mascherine e guanti e sono pronti a offrire il loro cuore grande perché durante le emergenze un cuore grande fa davvero la differenza Stiamo monitorando la situazione generale sulla città per ciò che riguarda le persone che stanno in giro e li invitiamo sia con messaggi sonori che con le nostre macchine a restare a casa e li invitiamo di volta in volta a rientrare a non fare troppe fila anche ai supermercati Stiamo monitorando tutte le telefonate che ci arrivano da parte di cittadini sia che hanno dei bisogni particolari oltre che discorso della spesa anche situazioni di carattere sanitario abbiamo persone che cercano il ricapito dei farmaci a casa oppure persone disabili che hanno determinate problematiche che in questo momento non possono sopperire perché la badante li ha lasciati oppure i figli sono fuori non possono rientrare noi nel migliore dei modi stiamo cercando di sopperire a tutte queste mancanze inoltre la solidarietà dei cittadini catanesi è immensa qui arrivano anche delle derrate alimentari offerte da singoli cittadini ma anche da aziende di diverso tipo non solo aziende alimentari ma piccoli imprenditori che praticamente fanno arrivare dei pacchi di spesa noi li selezioniamo e nell'eventualità che ci sono delle esigenze di carattere immediato delle necessità per cui la gente ha di bisogno noi interveniamo e facciamo recapitare quanto è possibile fargli recapitare Quante persone in questo momento stanno lavorando quanti volontari ci sono? Allora qui abbiamo la presenza di circa 60 volontari di protezione civile poi abbiamo il nostro personale di protezione civile siamo in circa altre 20 persone e anche qualche collega di altri servizi comunali che a titolo di volontariato quindi al di fuori delle ore di lavoro vengono qui a dare la loro prestazione fino alle 9 alle 10 di sera non c'è orario sono tante le persone che cercano un supporto in questo momento molto delicato per questo motivo un servizio telefonico di assistenza psicologica gratuita disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 20 è stato attivato a Catania fornire assistenza psicologica gratuita tutti i giorni affinché in questo periodo così difficile si possa avere sempre un supporto a mettere a disposizione questo servizio è la LIAF la lega italiana antifumo che grazie allo supporto tecnico e alla collaborazione di Netit azienda leader di mercato nella customer experience ha deciso di rispondere a queste richieste attivando un non servizio appunto di assistenza disponibile tutti i giorni alle 8 alle 20 al numero 095 22 92 444 di concerto con la partecipazione volontaria di numerosi esperti che hanno aderito al progetto il servizio fornisce un non supporto concreto e veloce a tutti i cittadini italiani in un periodo assai difficile perché ogni cosa ogni gesto anche il più semplice ci viene negato un bacio un abbraccio una scena con gli amici o semplicemente una passeggiata al mare diventano sogni desideri da realizzare quando si vedrà la luce in fondo al tunnel ma per adesso la maggior parte delle persone vede solo tenebre che spesso incidono sull'umore con ripercussioni sulla salute perché tutti gli psicologi sono concordi con l'affermare che la paura abbassa le difese immunitarie e che non esternare un nostro disagio potrebbe essere assai cagionevole da cui la necessità di un confronto con esperti che diventa sempre più impellente per discutere del presente ma anche del futuro di un dolore per la morte di un non parente portato via da questo maledetto virus dall'ansia per qualcuno contagiato per l'attenzione di quello che potrebbe essere sono centinaia le richieste d'aiuto e le domande che arrivano ai medici di tutta Italia tramite i mezzi di comunicazione abbiamo un momento drammaticamente emergenziale in cui tantissime persone sono costrette a stare in casa in una situazione di ansia e di paura l'IAF call me vuole rispondere alle esigenze di tantissimi italiani cittadini italiani che in questo momento vivono una situazione psicologica fortemente destabilizzata abbiamo scelto di aderire all'iniziativa perché riteniamo che oggi più che mai il supporto tecnologico debba essere messo al servizio del sistema paese e del settore sanitario e adesso i vostri videomessaggi tutti soprattutto le generazioni più recenti diciamo è uno di quei ragazzi che sono in città quando senti la santa e dice beh vabbè è lui sono loro aiuto a persone civili a lottare contro coronavirus iban it 84 z 030 6905 0201 0000 0066 37 ciao a tutti state tutti a casa e quando uscite dovete indossare la mascherina e quando dovete avere sempre la macchina ciao io resto a casa con mamma Barbara con papà Giorgio e sorellina Costanza baci da Virginia io resto a casa e voi il Tg termina qui grazie per la vostra attenzione buona serata a a a a a a a a a Grazie a tutti.